aci rally italia talent 2019 è l'edizione dei record oltre 9.000 quasi 9.300 gli iscritti su un parco iniziale di ben 16.000 test drive quindi ampia scelta per poi arrivare ai finalisti e qui siamo alle finali se la giocano in poco meno di 60 e una trentina di navigatori per diventare il talento del 2019 suzuki non può che essere orgogliosa di aver visto passare questi talenti sulle proprie vetture sulle swift sport tra poco tra qualche minuto sapremo il nome non sarà una scelta facile perché basta stare in una curva qualsiasi del circuito per vedere che se la cavano tutti alla grande